Cari amici del canale, in questo video voglio partire subito con due proverbi. Non tutte le ciambelle escono col buco e il secondo è non tutti i mali vengono per nuocere. Ebbene, cos'è successo? L'assemblatore della manì ha fatto un errore per quanto riguarda le connessioni, per quanto riguarda i cavi e i terminali. Ebbene, la manì, dopo che io gli ho segnalato questa cosa, dopo che ho analizzato bene il tutto con i test, gli ho detto questo non va bene. E voi sapete che su questo canale, se un'azienda non si comporta in maniera seria, viene eliminata, cioè viene cancellata. E la rubrica, la playlist di questi, mi fido, deve essere sempre fortemente seria. Ebbene, che cosa è successo? Ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo avanti col video per vedere tutti i dettagli. Buona visione. Ebbene, parlavamo delle serietà della manì. Che cosa è successo? Quando mi sono accorto della situazione, quando l'ho verificata soprattutto, ebbene gli ho detto che facciamo adesso? Ragazzi, la manì ha detto tutti i box che ci sono a Milano, li ritiriamo tutti, li rispediamo in Cina e li facciamo modificare. Quanto ti costa questo? Un botto. Allora, perché non facciamo un'altra cosa? E gli ho dato un'idea che loro al volo hanno accettato. E questo è a beneficio di tutti noi. Il beneficio è chiaramente il forte sconto che ci farà. Ragazzi, che cosa è successo? Che sui terminali e le connessioni c'è stato un errore per quanto riguarda la qualità del terminale. Ebbene, io ho detto alla manì, invece di portarti, di riportarti in Cina tutti i prodotti che devono ritornare indietro e essere modificati, perché non fai uno sconto? Che tanto la modifica è veramente minima, uno sconto significativo. Bene, la manì si è prodigata proprio in questo. Questi box che vedrete adesso in questa descrizione, 12 e 24 volt, di cosa necessitano? Ebbene, una modifica che adesso vi faccio vedere, ma proprio per i principianti, perché chi è già avvezzo al settore sa benissimo cosa fare. Ebbene, con questa piccola modifica molto semplice, le modifiche potrebbero essere due. La prima riguarda il terminale puro e la seconda riguarda la connessione col cavo. Ebbene, pochi euro che spendereste per avere il terminale e il lavoro che dovete fare, mezz'oretta, un'ora, vi implicherà uno sconto forte che la manì ha fatto. Non uno sconto totale, non è il 50%, ma è uno sconto molto più valido che non il lavoro e i terminali che dovete cambiare. Alla fine, parliamoci francamente, qualche euro che potete spendere, invece lo sconto sarà forte. Chiaramente prezzi, lo sapete, su questo canale non ne dico mai, perché i video restano per sempre, invece i prezzi sono oscillanti. L'avete visto anche con i pannelli che sono scesi di prezzo e adesso stanno risalendo. Ebbene, ragazzi, entriamo nel vivo della argomentazione. Qual è stato l'errore e quali sono le offerte? Le offerte innanzitutto prevedono la 12V e la 24V, ci saranno batterie già pronte con dentro le sue celle, con il bilanciatore attivo della JK, che è molto buono da 2A, e con le batterie di diversa tipologia. La prima tipologia è la 12V 280A della Etium, sono queste ragazzi, altissima qualità, grado A ovviamente, oramai non lo dico più, e 10.000 cicli di longevità, quindi veramente una batteria 12V o 24V per camper, che vi dimenticate, vi dimenticate negli anni, e la potenza e l'erogabilità è veramente alta. Il magneto termico utilizzato è 250A, e quindi già c'è un intervento che protegge le batterie, in caso di cortocircuito, in caso di sovratensione, in caso di anomalia. Un altro dato importante, e lo voglio spiegare anche qua, anche se l'ho detto in altri punti, che il JK, come tutti i bilanciatori attivi, quelli attivi cosa fanno? Spostano la corrente di una cella che si è caricata di più, sapete che le litio hanno purtroppo, non sono come le piombo che lavorano in maniera sintonica, ma la loro carica avviene in una specie di scala che sale e scende, che deve essere bilanciata, perché non si autobilanciano in serie, ebbene deve essere bilanciato dall'equalizzatore attivo. Perché attivo e non passivo? Ovvero, ci sono gli attivi e i passivi. Io preferisco gli attivi perché prelevano la corrente da una cella e la trasportano in un'altra, e fanno così nel loro lavoro. Mentre quelli passivi, la cella più alta, vanno a consumare quella poca corrente che c'è in più, costantemente. Quindi in realtà c'è un po' un consumo, un po' una perdita di energia da parte degli equalizzatori o dei bilanciatori passivi. Ebbene, in queste batterie ci sono i JK Active Balancer da 2A, quindi nel mercato possiamo considerarli tranquillamente tra il top delle marche. Bene ragazzi, cosa è successo? L'assemblatore ha pensato di utilizzare un terminale da connettere al bagneto termico che veramente fa pena. La parola pena è ancora poca, cioè la connessione è veramente di basso livello. Bene, come si risolve questo? Si taglia qua, con un cutter, andate a tagliare la guaina che protegge il cavo, andate a... Io lo sto facendo in pochi secondi, vedete? Andate a eliminare la protezione, andate a tagliare il cavo, così. Bene, a questo punto... Lo sto facendo in diretta, questo è il cavo che ho preso esattamente dal box, ragazzi. Non è che sto facendo, lo andate a spelare. Vedete, questo è un cavo buono, siliconico, eccetera. A spelare. E questo, questo, multifilo buono, andiamo direttamente a inserirlo nel nostro... Scusate un attimo che devo svitare di più. Lo andiamo a inserire direttamente nel nostro magneto termico. E andiamo a chiudere. Chiaramente adesso ho fatto un lavoro veloce. In questo modo abbiamo messo direttamente il cavo nel magneto termico. Qui non serviva quel terminale lì. Io non so che cosa gli è sviluppato all'assemblatore. Pensavano di fare una cosa ottimizzata, invece hanno usato un terminalino che non trasporta nulla. Bene, ragazzi, il forte sconto su questo prodotto compensa quei tre minuti che ci ho messo. E va fatto anche dall'altro lato. In questo modo abbiamo dato una connessione certa al magneto termico. Ragazzi, questo è quello che avviene su questo canale. L'altra cosa, se volete farla, ma non è obbligatoria, è la sostituzione di questi terminali che a priori a me non piacciono. L'ho sempre detto nei video. Perché hanno usato questi? Ebbene, se dovete cambiare questo terminale non potete ancora tagliare per cui assottigliereste troppo il cavo. Allora cambiate terminale, cavo e la connessione diventa tutta nuova. Questo e quest'altro. Ok? Potete cambiare anche gli altri due, ci sono all'interno delle batterie. Ora, tra quattro pezzi di cavo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, sette, otto connettori e il lavoro che ci mettereste, veramente avete fatto un lavoro di miglioria notevole, quanto mai, quanto mai, e avete speso veramente poco. Bene, la mani farà uno sconto proprio per compensare questo e sinceramente sarà più del doppio, del triplo di quello che spenderete voi. Quindi per quello che ho usato il proverbio iniziale, non tutti i mali vengono per nuocere. Perché questo si è trasformato in uno sconto. Un po' di manualità, acquisito una certa esperienza e gli esperti sanno che in pochi minuti abbiamo risolto. Il problema. Andiamo avanti adesso con le caratteristiche di questi battery box con all'interno le celle e vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Buona visione. Ebbene, la prima offerta riguarda una batteria 12 volt, 280 ampere ora di capacità, con batterie della Etium, con magneto termico 250 ampere, con cavi e terminali, vi do un consiglio, sostituite tutto e va bene così in modo che date più efficienza e usate anche cavo da 35 mm quadri, sarebbe l'ideale. Per coloro che vogliono esagerare, volete mettere anche un 50, però già diventa tanto. Vi ricordo che sulla 12 volt non potete usare le potenze massime. Dovete stare sempre in una potenza continua, contenuta, perché se no ci vorrebbero veramente i 95 mm quadri. Quindi questo è ideale per una casa modesta, per un camper, per un camion. Adesso tutti i truck stanno utilizzando queste batterie anche per far andare strumentazioni o situazioni nel camion che sono frigoriferi, che sono comodi quando fanno i loro viaggi. Ebbene, questo è un 12 volt, 280 ampere ora della Etium, le foto le adesso ve le fate vedere qua, e ci sono anche tutte le misure, in modo che calcolate anche bene sul vostro camper come collocare questa batteria. Questa è l'offerta numero uno. La seconda offerta riguarda sempre una batteria a 12 volt, ma da 560 ampere, quindi un 2P4S, sempre con il JK da 2 ampere, sempre con questo magneto termico e sempre con le Etium. Qui cosa abbiamo? Abbiamo praticamente 560 ampere, cioè il doppio della capacità di questa batteria. È stato studiato ovviamente per avere una 12 volt con più longevità in termini di quanto mi dura la batteria mentre sono in libera, mentre sono fuori per un weekend, eccetera. Ovviamente per casa anche la 560 ampere è un bel impiantino che già comincia ad alimentare in maniera significativa. Vi ricordo sempre sulle 12 volt calcolate gli assorbimenti massimi in continua, non smetterò mai di dire questo. Andiamo avanti con la prossima offerta. Ebbene la prossima offerta riguarda la 24 volt con 280 ampere ora, sempre Etium e stesse caratteristiche delle altre. Quindi abbiamo raddoppiato la tensione 24 volt, cominciamo a entrare in un mondo significativo sia per i camion, sia per i camper che adesso stanno anche andando a 24 volt con le varie modifiche, eccetera. E per casa abbiamo la 24 volt che è una tensione media, quindi tra 12 e 48 che ci dà un po' più potenza. Questa è sempre la solita vecchia storia di andare a calcolare quanto consumiamo in casa nostra e qual è la posizione degli elettrodomestici in termini di consumo istantaneo. Questo è molto importante per le spinte. Andiamo avanti con l'ultima offerta ragazzi. Ebbene coloro che vogliono una 24 volt con meno capacità, c'è questa batteria che è 24 volt 200 ampere ora. Ebbene questi 200 ampere le batterie non sono le Etium ma sono le Calb, quindi sempre grado A, sempre qualità massima, però costano un po' meno. Quindi si può anche lì risparmiare qualcosina invece della 280 ampere. E abbiamo questa batteria 24 volt 200 ampere. Ragazzi questa è l'offerta. Avete visto le foto, ve le ho raffigurate. Adesso alla fine del video le vedrete tutte in sequenza con tutte le misure. C'è questa modifica da fare che alla fine è vero che non tutte le ciambelle escono col buco. Un'azienda seria ammette i propri errori ed era disposta a riportarsi tutto a casa. Invece è tutto già pronto a Milano per il ritiro diretto o per la consegna al vostro domicilio, al vostro negozio, quello che sia. Come dico sempre dovete acquistare tramite il link che c'è qua sotto, tramite Alibaba, tramite la Mani, tramite Yanlam che è sempre disponibilissima. Fate a loro tutte le domande che volete. Se avete domande tecniche, non sapete come sostituire i cavi, potete ovviamente chiederle a me sotto, attraverso i commenti. Io risponderò a tutti, soprattutto i principianti, se hanno delle perplessità, come si crimpa, come si cambia. Sotto ho messo anche il link di questa cesoia che dovete sempre avere nel vostro laboratorio ragazzi. Ho messo il link anche della pinza pneumatica molto potente e ho messo il link anche di quella manuale per chi non deve montare troppi terminali. Alla fine sotto ci sono i link di questo video che sono molto interessanti per farvi una sorta di attrezzi fondamentali che servono se avete lobby del fotovoltaico o se siete dei professionisti. Ragazzi è tutto, spero di essere stato chiaro, se ci sono altre domande, perplessità, tecniche le potete chiedere a me. Per quanto riguarda questa offerta, questo affare, chiedete la Mani. Ragazzi non posso che dirvi buon impianto a tutti, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video.